Ma ci siamo! Il grande momento è giunto! Manca solo il direttore d'orchestra! Bambine, ragazze, muñequite, vamos a iniciar con te musì, prelugio al pomeriggio di un fauna. Bel pezzo, bel pezzo! Non mancheranno sicuramente all'artista gli spunti per visualizzare questo brano musicale e conferirli una nuova vita. Facendo appello e contando unicamente su questa matita, pensate, la sua fida matita riuscirà sicuramente a dare una vita nuova a questo stupendo brano musicale. L'artista crea! Ssssshh! Pronte ragazze? e 1, e 2, e 1, e 2, e 3, e 4 e 2, e 3, e 4 e 3, e 4 e 4, 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 e 4, e 4 e 4, e 5 e 4, e 4, e 4 e 4, e 4, e 5 e 4, e 4, e 5 e 5, e 5, e 5 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti